Sono Lorenzo Firenzani coltivo zafferano a Castelfiorentino dal 2018 ho un'azienda agricola artigianale dove coltivo la spezia esclusivamente a mano tutte le fasi della lavorazione vengono svolte esclusivamente a mano questo è il bulbo di zafferano dove da qui poi nascerà la pianta e da metà ottobre a metà novembre usciranno appunto i fiori. Questo che vedete alle mie spalle è uno dei due nuovi zafferaneti che a settembre appunto ospiterà i bulbi di zafferano. Siamo sempre nel comune di Castelfiorentino a Meleto per la precisione vicino alla villa di Meleto. Qui entreranno circa dai 6.000 a 7.000 bulbi di zafferano per una produzione dai 3-400 grammi di spezia. Come avete capito la resta dello zafferano è bassissima nel senso che ci vuole tanto terreno e tanto lavoro alla fine per produrre poco peso della della spezia, poca quantità di spezia. E' questo il bello appunto dello zafferano consideriamo però che per cucinare un classico risotto si usa veramente una quantità piccolissima di pistilli di zafferano. Noi commercializziamo lo zafferano esclusivamente e rigorosamente in pistilli per differenziarlo comunque dalla polvere che si trova sulla grande distribuzione. Così per garantire la purezza della spezia al consumatore finale e questo ne determina sicuramente la qualità e anche il prezzo.